Il procuratore Nicola D'Angelo lo dice sempre, bisogna tenere alta la guardia contro le infiltrazioni mafiose in Molise. La droga è forse lo strumento più adatto usato dalle cosche per infilarsi anche nei territori più tranquilli. Determinante fare squadra tra le istituzioni anche in Molise per combattere le forme spesso scure della mafia. Il giurista molisano Vincenzo Musacchio, da quando è consulente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, ha gli occhi vigili anche sullo stanziamento dei fondi europei e sui nuovi assetti su cui si muove la criminalità. Insieme al gruppo che sta lavorando proprio su Recovery Fund abbiamo presentato la prima tranche, un progetto appunto per provare ad impedire le infiltrazioni mafiose sul Recovery Fund. Abbiamo dato delle linee guida, tra le quali abbiamo detto che fondamentale è la tracciabilità dei fondi, l'uso della moneta elettronica proprio quando questi fondi vengono erogati alle pubbliche amministrazioni, è un controllo su appunto gli appalti privati che vada non a campione ma che li esamini tutti dall'inizio, quindi da quando inizia il bando fino all'esecuzione dell'opera. I tentacoli della mafia si allungano sempre più verso la nostra regione, il rischio è palese e l'indice di permeabilità preoccupa. Il Morizio è ancora una regione in cui non ci sono radicamenti mafiosi, ma solo fortunatamente infiltrazioni, però questo ovviamente non ci deve far abbassare assolutamente la guardia, perché come ben sappiamo le infiltrazioni sono il prodomo di quelle che potrebbero essere un radicamento. Abbiamo visto le prime estorsioni, abbiamo visto le prime confische di beni, abbiamo visto anche boss che si sono rifugiati qui in Molise per un periodo, boss di primo livello, quindi tenere alta la guardia, tenere alta la guardia soprattutto sul fenomeno droga, che è uno dei fenomeni preoccupanti perché la regione molise tra le 20 regioni italiane è una di quelle che ha avuto un incremento più alto rispetto alle altre regioni, tenendo conto della densità abitativa, quindi questo ci deve certamente preoccupare. Solo qualche giorno fa in un agguato armato il giornalista olandese Peter De Vries è stato ucciso. Da anni ormai firmava inchieste sui narcotrafficanti, ma non ha avuto paura di parlare di mafia. Musacchio lo ha conosciuto. Ho fatto varie videoconferenze con lui, ho pubblicato due articoli in inglese prima, poi lui me li ha tradotti in olandese e me li ha fatti pubblicare in olanda. L'ho conosciuto ovviamente per poco tempo, ma quel poco tempo mi ha fatto capire che era un giornalista, come dire, alla Pippo Fava, alla Peppino Impastato, uno di quelli che non si fermava davanti agli ostacoli. Adesso aveva trovato, secondo me, un filone importantissimo delle narcomafie all'interno del porto di Rotterdam, che avrebbe messo a rischio, da un punto di vista economico, avrebbe creato danni patrimoniali ad una cosca dell'America Latina, colombiana e messicana, e quindi le mafie hanno deciso di eliminarlo.